Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz In questo breve video vi faccio vedere come è possibile aprire una posizione sul DAX in particolare al ribasso con la piattaforma del broker Kimura Trading Andiamo subito sulla piattaforma per farvi vedere che qui abbiamo tutti i mercati e in particolare gli indici La prima cosa che dovete fare a mio avviso è quella di cliccare su impostazioni e assicurarvi all'interno della voce asset che abbiate la piattaforma settata su unità perché potrebbe essere settata su lotti è più semplice a mio avviso avere la piattaforma appunto su unità per diciamo vedere i singoli prodotti e valutarli in euro al singolo punto ma una volta che ci siamo assicurati di avere gli indici appunto come unità possiamo andare sul grafico del DAX oppure cliccare direttamente qui nella sezione dove abbiamo tutti i prodotti per aprire il ticket di negoziazione quindi clicchiamo su crea nuovo ordine e ci compare la mascherina ora magari molti non hanno mai fatto trading e quindi è importante spiegare bene tutta una serie di cose la prima cosa che vi devo dire che secondo me è la cosa più importante in questo momento fate trading solo con i soldi che siete disposti a perdere o meglio quei soldi che qualora dovesse andare tutto male non diciamo vi recchierebbero alcun danno vi consentirebbero comunque di andare avanti quindi molto importante non facciamo trading con dei soldi che non siamo disposti o che non possiamo perdere andiamo a questo punto a vedere l'operatività clicchiamo su vendita perché vogliamo aprire un'operazione ribassista sul mercato tedesco può essere un'idea anche per coprire magari dei portafogli azionari che abbiamo in banca ora adesso dobbiamo capire bene la parte relativa all'esposizione e al margine se abbiamo la piattaforma impostata su volume il volume è quello che è il valore di fatto per singolo punto come singolo punto intendiamo quello alla sinistra della virgola quindi in questo caso stiamo parlando di 1 euro a punto e quindi di 9.750 euro più o meno di controvalore il margine richiesto con una leva di 1 a 20 è di 485 euro più o meno quindi per ogni singolo contratto o meglio per un trade di 1 euro di volume quindi per un'esposizione totale di 9.700 euro circa abbiamo bisogno di avere sul conto 485 euro ma non basta perché questo è soltanto il margine richiesto quello che ci serve è anche avere della disponibilità per coprire eventuali movimenti avversi quindi se vogliamo fare un trade di 1 euro a punto dobbiamo avere a mio avviso almeno 4-5 volte il margine richiesto che vuol dire tra i 2.000 e i 2.500 euro sul conto questo per avere un minimo di margine la piattaforma ci dà la possibilità di scendere fino a un massimo di 0,5 quindi con 50 centesimi a punto sarà sufficiente avere sul conto per poter impostare questo tipo di operatività secondo me tra i 1.000 e i 1.500 euro ovviamente ricordo ancora una volta che il rischio che questo tipo di operazione insomma possa andare male si possano perdere tutti i soldi ovviamente esiste per chi avesse una disponibilità maggiore ovviamente è possibile incrementare la sites nel caso di una sites da 10 euro per punto quindi stiamo parlando di circa 100.000 euro di esposizione consiglio ritengo che il valore corretto di fondi da avere disponibile possa variare tra i 20 e i 25.000 euro in proporzione a questo punto possiamo andare appunto a selezionare il nostro valore basta cliccare su piazza ordine e l'ordine entra a mercato in questo modo siamo esposti su questo strumento e abbiamo la possibilità appunto di vedere in tempo reale come si muove il nostro indice, l'indice DAX da parte di Enrico Lanati per il momento è tutto io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading e vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio